Le polemiche su Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le stelle accanto a Carlo Aloia, sembrano non placarsi. Dopo le critiche della giuria e degli ex colleghi, arriva l'attacco della giornalista Paola Ferrari. Sonia è tornata sui social per parlare della sua separazione da Paolo Bonolis e chiedere scusa per alcuni comportamenti. Ma Paola Ferrari l'ha definita una sceneggiata. La giornalista ha criticato il comportamento di Sonia e ha sottolineato la sua partecipazione al programma, nonostante le critiche ricevute. Anche Alan Friedman ha lanciato una gufata alla Bruganelli in vista della prossima puntata. La prossima puntata di Ballando con le stelle si aprirà con lo scontro tra Sonia Bruganelli e Alan Friedman. Quest'ultimo ha parlato della sua esperienza con Sonia, definendola gentile ma lanciando una gufata sulla sua popolarità e il numero di follower. La rivalità tra i due concorrenti si fa sempre più accesa, con entrambi pronti a dare il massimo per vincere il programma. Le critiche e le polemiche attorno a Sonia Bruganelli sembrano non fermarsi, con giornalisti e concorrenti pronti a esprimere le proprie opinioni. La prossima puntata di Ballando con le stelle si preannuncia ricca di tensione e rivalità, con il pubblico in attesa di scoprire chi avrà la meglio tra Sonia e Alan. Resta da vedere come la situazione si evolverà e se le polemiche continueranno a...